Il nuovo Reform Metrach H75 è il risultato della coerente evoluzione di una comprovata tecnologia che ha sempre posto al centro i vantaggi per i nostri clienti senza scendere a compromessi. Il modello Metrach H75 offre la postazione di lavoro più confortevole della sua categoria. La nuova cabina è svincolata dal telaio e dal motore e con meno di 75 decibel vanta una gradevole silenziosità. La portiera a tutto vetro facilita l'entrata e l'uscita. E il nuovo impianto di climatizzazione con afflusso d'aria misto garantisce temperature omogenee. La nuova concezione di comando crea maggiore spazio di movimento mantenendo invariate le dimensioni esterne della cabina e il bracciolo fissato al sedile consente una posizione di seduta ottimale indipendentemente dall'altezza del conducente. Il sedile girevole opzionale offre il massimo conforto sui pedali. Sul nuovo comportevole bracciolo sono riunite tutte le funzioni importanti del Metrach H75. Questa caratteristica facilita ulteriormente il comando e lo rende più sicuro. Tutte le leve e gli interruttori sono sempre raggiungibili e possono essere azionati con il braccio appoggiato. Sui display vengono visualizzate con chiarezza tutte le informazioni sullo stato del veicolo. La radio consente di ascoltare la musica preferita e funge da dispositivo viva voce oppure permette di gestire il sistema di navigazione e altre app. L'avviamento sui pendi o sottocarico è facilitato dalla funzione Auto Hold disponibile di serie. Per agganciare in tutta sicurezza e semplicità le varie attrezzature portate, il modello Metrach H75 dispone di comprovati elementi di comando esterni. Il dispositivo di sollevamento automatico, in caso di utilizzo contemporaneo di due attrezzature montate, supporta il sollevamento e l'abbassamento delle attrezzature e può essere automatizzato in maniera personalizzata. Per garantire il massimo in termini di sicurezza fuoristrada, il modello Metrach H75 si affida al comprovato telaio Reform, ulteriormente sviluppato e caratterizzato dalla rinomata stabilità e dal baricentro basso. La stabilità della cabina certificata garantisce al conducente la massima sicurezza. Lo sterzo integrale consente manovre estremamente precise in spazi ristretti, preservando nel contempo il terreno. E per garantire un comportamento controllabile anche in caso di velocità più elevate, la velocità massima viene limitata automaticamente a 20 km orari quando si utilizza lo sterzo integrale. La sale oscillabile anteriore, inclinabile nelle due direzioni fino a 15 gradi, nonché il comprovato sterzaggio a granchio, assicurano un ottimale adattamento al terreno. Per garantire l'utilizzabilità per molti anni, il modello Metrach H75 è stato ottimizzato per ciò che concerne gli interventi di manutenzione, pulizia e riparazione. Il sistema di raffreddamento è dotato di una ventola reversibile per eliminare autonomamente lo sporco grussolano. Il radiatore può essere ribaltato e consente inoltre una buona accessibilità al vano motore. La cabina può essere completamente rimossa per consentire interventi completi di manutenzione o di riparazione. Il circuito idraulico per lo sterzo e la propulsione è completamente sganciato dal circuito di lavoro idraulico. In questo modo, eventuali impurità oleose fuoriuscite dalle attrezzature montate non raggiungono le zone delicate del veicolo. Tramite la manutenzione a distanza, è possibile accedere ai dati della telemetria del veicolo per effettuare una rapida diagnosi delle anomalie, oppure per consentire ai responsabili della flotta di eseguire interrogazioni circa lo stato e l'ubicazione del veicolo. Il modello Metrach H75 è dotato di un motore diesel ecologico di categoria Euro 5 per salvaguardare l'ambiente. La trasmissione idrostatica con comando elettrico dispone di un elevato livello di efficacia. Il posto trattamento dei gas a discarico è applicato direttamente al motore e costituisce un'unità ad azione combinata. Il sistema idraulico per le attrezzature montate regolamenta il flusso dell'olio a seconda del carico, riducendo in questo modo il consumo di carburante. Così come la presa di forza con regolazione del carico limite è azionata direttamente, grazie alla quale, in caso di necessità, il numero di giri viene mantenuto costante. Lo stadio intermedio meccanico consente una marcia su strada veloce e comoda a basso regime. Reform Metrach H75, il risultato di oltre 110 anni di esperienza.